Viaggiare, viaggiare, io ho chiesto alla terra chilometri, lingue di asfalto, linee continue, linee tratteggiate. Ho pregato le madonne degli autogrill. Ma adesso arriva il momento di entrare qui e lasciare il veicolo dove le vetture sognano il viaggio futuro. E la corriera che la va su e giù, e l'autista che ne ha po' più, e la sciura con i bei tetti, e la dunetta che ha sbagliato il biglietto. Sempre la solita tiritera, tu ci sei la corriera. E i passeggeri arrivano da nessuno, la sciura rosa conta il sonno, e la turista la capisnagot, e i tusaner che fanno troppo caso. Ma guardate che ferà, tu ci sei la corriera. E gianca il preve che va sul taggio, e un operario che va sul tasso, e verti port, e sarai port, e l'autista che l'è stragmort. Sui dinosauro di lamiera, tu ci sei la corriera. E la strada che l'è la tua mam, o la strada che l'è la tua tusa. La strada che l'è un toc de pan, o la strada che l'avusa. Quella strada che l'è una ciulada, e quella strada che l'è una bella tusa. E la corriera che l'avasso è giù, e il controllor con la giacca a blu. Tu ci ha pa' controlla che il biglietto, alla donna conti i bei tè. Oh signorina buonasera, tu ci sei la corriera. Guarda la strada, guarda specie, porca miseria che razza detet. Sei tu un autista, pensa a guidar, che il controllor lecci a modria controla. Ma guarda che atmosfera, tu ci sei la corriera. E la strada che l'è la tua mam, o la strada che l'è la tua tusa. La strada che l'è un toc de pan, o la strada che l'avusa. Quella strada che l'è una ciulada, e quella strada che l'è una bella tusa. La la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la ri ri ra. La ri ri ra, 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 la ri ri ra. Sempre una solita tiritura, dueci sulla corriera. Il giro della terra è una commemorazione che si ricorda negli anni del 1630 quando c'è stata la peste. La leggenda del paese dice che sono rimaste solo due donne che per tradizione tutti gli anni facevano questo giro in ginocchio, si pensa, allora. È un antico rito, un'usanza nata proprio perché si è scongiurata una tragedia, la peste che ha colpito in quel momento tutto il mondo circostante riesce in qualche modo a salvare qualche persona di Zelbio. Il primo di febbraio, il 99 su 100 c'era sempre la neve su questo passaggio e c'erano i bambini che facevano la cosiddetta pedana, cioè facevano pulizia della neve e dopo aver terminato questo la sera andavano nelle case dei contadini, dei locali, dei paesani di allora a prendere una questua, farina o del formaggio.